ciao ragazzi benvenuti in questo velocissimo video sull'update di cubase 10.0.40 se volete vedere tutti i bug che sono stati risolti potete trovare l'elenco dei bug risolti nell'apposito documento che ci fornisce la Steinberg invece qua vorrei farvi vedere principalmente quello che hanno fatto sulla nuova finestra dell'export audio sulla destra c'è la finestra vecchia dell'export audio che è quella che riguarda appunto la versione precedente di cubase infatti potete vedere che la grafica è leggermente diversa a parte il colore che avevo io un colore diverso in precedenza quello che era molto scomodo era il fattore che la finestra che riguarda la selezione dei marker di ciclo non era ridimensionabile quindi cosa succedeva succedeva che se il titolo è molto lungo veniva persa una parte di scritta purtroppo non posso farvi vedere sulla versione precedente perché non ce l'ho più installata quindi vi dovete accontentare dell'immagine fissa e invece quello che interessa a noi vedere che nella nuova versione a parte la nuova grafica e la disposizione differente appunto della selezione dei canali quindi singolo e multiplo soprattutto la zona qua dei marker di ciclo se vado a ridimensionare alla finestra finalmente vedete che il titolo posso vederlo in modo completo quindi se avete dei marker con un nome lungo come succedeva spesso a me magari se fate sound design avete suoni singoli da esportare finalmente riuscite a vedere il titolo completo vi invito a vedere gli altri video quindi tutorial su cubase e vari video che ci sono sul mio canale se non avete attivato la campanellina di youtube attivatela così potete sempre essere aggiornati sui video che pubblicherò ciao a tutti